Maria Rita forse è meglio che chiudi il microfono chiudo e poi quando gli diamo la parola lo apri ok solo il microfono eh Antonella siamo live ok allora buonasera a tutti eh benvenuti alla la diretta Facebook dedicata a Cori eh comunità solidale ehm questa sera ci sarà con noi eh un gruppo composito eh di persone eh il cui scopo è parlare eh di come sia possibile fare eh solidarietà e lotta alla povertà all'interno delle nostre piccole ehm comunità ehm questo gruppo composito però prenderà il via eh parlando eh di un'importante iniziativa che da alcuni anni ehm viene portata avanti eh a Cori in termini proprio comunitari come banco eh farmaceutico esiste una fondazione banco farmaceutico e eh grazie a questa fondazione ogni anno è possibile fare la raccolta del farmaco ehm la comunità correse aderito da tre anni a questa parte e eh quindi tutti quanti gli ospiti a partire ehm dal sindaco eh Mauro De Lillis eh parleranno di ehm di questa iniziativa e poi via via di come ehm si svolgono le iniziative solidali nel territorio corese. Ehm io rappresento l'associazione di promozione sociale eh Poligonal che eh ha il compito di organizzare eh quest'iniziativa nel corso di questi eh ultimi ehm tre anni e questa è iniziativa eh di diretta web ehm alla regia non si vede c'è Angelo Cioeta che eh appunto è un socio ehm di Poligonal e eh con noi in questo momento ci sono il sindaco del comune di Cori eh la dottoressa eh Maria Teresa Oliglieri in rappresentanza della Fondazione Nazionale Banco Farmaceutico eh il dottor eh Michele Modugno in rappresentanza della farmacia De Gregorio ehm la dottoressa eh che in questo momento è scomparsa dal vita ma tra poco ricomparirà eh Maria Rita Nobili in rappresentanza della farmacia eh Nobili e eh la dottoressa Patrizia Moroni in rappresentanza della farmacia San Giuliano. Seguiranno poi eh Protezione Civile, Caritas ehm è presente sullo schermo anche eh il gruppo CNJ eh con Giulia eh Ciaffrei, dicevo Caritas Protezione Civile e Comitato Civico Cori. Ehm per l'apertura diciamo di questa iniziativa io darei immediatamente la parola al nostro sindaco Mauro Delidis per un indirizzo di saluto alla nostra comunità e sul valore di questa iniziativa. Buonasera a tutti grazie innanzitutto per l'invito ringrazio l'associazione Poligonal per aver organizzato questa interessante iniziativa dal titolo Cori in comunità solidale ma niente di eh più vero il valore della solidarietà è nel DNA di questa comunità che lo ha sempre espresso in molti in molti modi attraverso molte iniziative e gesti non soltanto di singoli di singoli cittadini ma proprio in forma collettiva. Un valore importante a prescindere ma che è risultato posso dire prezioso proprio in questo in questo periodo eh caratterizzato dalla dalla pandemia del covid. Dico prezioso perché potrei fare numerosi esempi di come grazie al volontariato la comunità di Cori ha eh risolto importanti problemi alla nostra comunità. Proprio qualche istanti fa istanti fa una cittadina mi ha mandato un messaggio ringraziandomi ma ringraziando me è chiaro che sta ringraziando l'intera comunità. Una signora positiva al covid in quarantena tutta la famiglia in quarantena e mi ringraziava del servizio che la protezione civile sta facendo alla propria famiglia. Quindi portando farmaci, portando generi alimentari e quindi aiutando eh una famiglia impossibilitata a muoversi. Quindi un servizio che la nostra comunità dà gratuitamente ma dà gratuitamente grazie a un'azione della protezione civile che esercita in via volontaria. Ma questo è uno dei tanti esempi. Ne potremo fare a decine ma questo rappresenta che cosa? Il messaggio appunto solidaristico che questa comunità è in grado di lanciare ai propri cittadini. E devo ringraziare quindi colgo occasione anche per questa opportunità che mi date per ringraziare anche due persone che sono qui collegate e quindi voglio ringraziare le farmacie di Cori e la farmacia di Gregorio e la farmacia Nobili per un'altra importante iniziativa che hanno intrapreso insieme a noi. E cioè quella dei tamponi ai nostri ragazzi, quindi agli alunni della scuola elementare e delle scuole medie di Cori e di Giulianelli. Tamponi che sono stati effettuati in prossimità appunto della fine delle vacanze natalizie. E' stata un'azione appunto di prevenzione importante per tutelare la salute non soltanto dei nostri alunni ma anche di tutti i nostri cittadini perché l'obiettivo era proprio quello di individuare eventuali positivi e quindi a cascata andare a catturare appunto eventuali positivi all'interno delle famiglie degli stessi. Abbiamo fatto più di 400 tamponi, è risultato un positivo e questo e questo appunto è stato un risultato importante perché abbiamo fatto appunto rientrare i nostri ragazzi nella più totale e assoluta sicurezza. Ma altri esempi si rivolgono al mondo della Caritas, anche con la Caritas c'è un rapporto molto stretto da sempre tra il comune di Cori e la Caritas, dove appunto gestiscono una mensa per i più bisognosi, una mensa realizzata con fondi comunali e regionali, un progetto che viene dalla passata amministrazione e che noi abbiamo definito semplicemente i dettagli e anche lì c'è un rapporto di sostegno tra l'amministrazione comunale e questo altro importante servizio che si dà ai nostri concittadini che sono stati e che sono meno fortunati di noi. Nel discorso di carattere più generale possiamo dire che il volontariato è un'asse della vita sociale fondamentale, fondamentale perché è grazie a loro che anche un'amministrazione comunale può stare più vicino ai propri cittadini. Pertanto ringrazio tutto quanto il mondo del volontariato e ringrazio ovviamente tutte le persone che si trovano sempre vicino a noi, soprattutto in questo periodo, periodo molto complicato e particolare e difficile per tutti. Allora, grazie al sindaco Mauro Dell'Illis, soprattutto per queste riflessioni rivolte a questo particolare periodo che stiamo attraversando in cui non solamente le risorse pubbliche occorrono ma occorre soprattutto una sinergia di risorse che sono fatte appunto da persone che danno la loro disponibilità di tempo ma anche di denaro ma anche di impresa e quindi attualizzano quello che viene chiamato il principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione in cui si dice che le pubbliche amministrazioni favoriscono tutti quei cittadini, tutte quelle imprese, tutte quelle associazioni che hanno come loro obiettivo il raggiungimento di un interesse generale. Quindi siamo felici di essere, come dire, cittadini di un'amministrazione che ha questo indirizzo preciso e comprende la necessità di integrazione composita di diverse forze. Questa sera siamo qui per parlare del Banco Farmaceutico. Banco Farmaceutico che è rappresentato dalla dottoressa Maria Teresa Odivieri come fondazione Banco Farmaceutico a livello nazionale e che coordina per la provincia di Latina a livello territoriale le giornate o settimane dedicate alla raccolta del farmaco, raccolta che è importantissima quale iniziativa per lotta alla povertà sanitaria. Dottoressa Maria Teresa Odivieri ti chiederei insomma di darci le indicazioni fondamentali di come si svolgerà quest'iniziativa quest'anno e quali sono stati finora appunto gli obiettivi raggiungenti a livello nazionale e a livello provinciale di questa iniziativa. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio per l'opportunità che date come fondazione di Banco Farmaceutico a questa diretta. Quest'anno la giornata di raccolta del farmaco si farà nonostante probabilmente tutte le difficoltà che ci potrebbero essere. Già questo per noi non è scontato in questo periodo comunque difficile. Vi dico molto sinceramente che non mi sarei aspettata la risposta almeno in provincia che c'è stato fino a questo momento. Vi dico già che ci sono già 17 farmacie iscritte in provincia, di cui 3 sono nel comune di Cori. Per cui già questo è un risultato importante nel senso che l'anno scorso erano 27, manca ancora qualche settimana quindi penso che i numeri dovrebbero all'incirca essere gli stessi. Al di là della raccolta che si farà credo che già questa sia un segnale importante di come le farmacie soprattutto in questo momento abbiano risposto. Nonostante per loro sia un momento penso di difficoltà e potranno chiaramente dirlo anche negli interventi impegnati anche perché quando chiamo per sapere se si iscrivono o non si iscrivono ovviamente capisco che gli impegni di questo periodo sono davvero molti perché molti ci fanno carica anche come ha detto il sindaco dei tamponi e quindi il loro impegno è aumentato ancora di più. Però devo dire che io almeno personalmente sono rimasta colpita dalla loro risposta positiva. Quindi questo è già il primo segnale per me bello di un'iniziativa che ormai ha preso piede in provincia da 15 anni. Devo dire che le farmacie di Cori in particolar modo la farmacia Nobili è tra le prime che abbia partecipato a questa iniziativa nel momento in cui è arrivata in provincia. Perché Banco Farmaceutico nasce nel 2000 in Lombardia e più precisamente a Milano dall'iniziativa dei giovani farmacisti che riconoscono probabilmente un bisogno che fino a quel momento nessuno aveva preso sul serio e era molto sporadico nelle iniziative. Cioè si pensava che il povero avesse bisogno sicuramente di un lavoro, sicuramente degli alimenti e di vestiti, ma forse non si teneva conto che avesse bisogno anche di farmaci. E allora da lì è nata un'esigenza insieme con Federpharma in quel momento e alla Compagnia delle Opere di mettere su questa iniziativa in quell'anno precisamente nelle farmacie di Milano. Poi questa iniziativa negli anni si è ingrandita e ormai è su tutte le province d'Italia. I numeri sono grandi, ve ne dico qualcuno. Ormai sono circa 5.000 le farmacie in Italia che aderiscono alla giornata. con 17.000 farmacisti e 22.000 volontari. Quest'anno i numeri ancora non sappiamo quali saranno, però si pensa che comunque poi alla fine verranno mantenuti. L'anno scorso sono state raccolte praticamente circa 4 milioni in euro di farmaci e circa 540.000 confezioni. Quindi sono numeri grandi che in qualche modo danno senso a tutto quello che si fa e anche all'esigenza che probabilmente nasce da una povertà che purtroppo il Covid e questa pandemia ha accentuato. Perché poi il Banco Farmaceutico, vi dico, fa anche donazioni aziendali. Dal 2008 si occupa delle donazioni aziendali di farmaci attraverso il reperimento di dentro le aziende farmaceutiche che sono associate. Dal 2013 ha attivato in alcune farmacie il recupero farmaci validi, non scaduti. Per quelle persone che magari hanno in casa dei farmaci, attraverso l'attenzione anche del farmacista, c'è la possibilità di recuperare quei farmaci che si trovano in casa integri, che possono essere magari messi a disposizione di quelle persone in difficoltà. Infine dal 2013 ha attivato un osservatorio sulla povertà sanitaria. Il primo in Italia, che è un'equip tra medici, farmacisti, statistici e sociologi, che cerca di in qualche modo di approfondire le dimensioni e le ragioni della povertà. Vi dico dei numeri che io ho letto in questi giorni e che davvero lasciano un po' il segnale anche di questa pandemia. Dal rapporto presentato quest'anno, il 40,6% degli enti durante il primo lockdown ha sospeso alcune attività di aiuto alle persone bisognose. Il 6% ha proprio chiuso e non ha riaperto di enti. Anche questo sono dei numeri che comunque appesantiscono in fondo questa pandemia. Però questo non ci toglie probabilmente l'entusiasmo comunque di continuare. Anzi, forse accoglienti e ancora presenti e che ancora riescano a lavorare, dà ancora più possibilità di essere presenti e di aumentare la loro volontà di fare. Vi dico che l'anno scorso nei numeri in provincia sono state 27 le farmacie che hanno aderito, con circa 9.000 farmaci raccolti, quindi sono tanti. Gli enti associati sono 7 sulla provincia, che hanno circa 3.500 bisognosi da accogliere. Nelle farmacie sono stati presenti circa 80 volontari. Quest'anno, ovviamente, la situazione di pandemia non ci permetterà di avere tutti questi volontari nelle farmacie. Questo è il dispiacere più grande, perché vi dico che l'esperienza, io lo faccio da volontario, da qualche anno lo faccio, diciamo, in coordinamento. E vi devo dire che sul campo mi manca tantissimo l'essere presenti magari in farmacia, no? Però quando l'ho fatto in farmacia l'esperienza bella è incontrare le persone e avere uno sguardo magari anche su quello che potrebbe essere un po' scettico. Però poi alla fine il dialogo e praticamente l'incontrarsi aiuta anche magari a togliere a volte questo scetticismo. L'importanza del volontario è apprezzata, credo, dai farmacisti. È quello che spesso ci viene richiesto, perché poi alla fine sono un aiuto soprattutto nella giornata. E sono, secondo me, un segno, soprattutto in questo periodo difficile, sono un segno concreto di speranza, come un po' tutti questi gesti di solidarietà, no? E quella speranza che forse questa pandemia ha un po' assopito e a volte sembra quasi che non ci sia più. Poi alla fine, secondo me, questi gesti la riavvivano e ce la riportano davanti. E proprio per questo, dicevo, quest'anno probabilmente la giornata sarà un po' diversa. Da un punto di vista di banco farmaceutico ci sono richieste forse, ve lo dico molto così, due ipotesi possibili di attuazione del gesto. Una è quella che sperando che sia almeno bel tempo e che sia possibile, un volontario possa stare fuori dalla farmacia. Perché capiamo bene che metterlo dentro con i numeri limitati per la farmacia creerebbe delle difficoltà, soprattutto per quelle farmacie che magari sono piccole e che magari all'Italia però hanno un numero di presenze molto minimo. E quindi ci viene richiesto di stare fuori. Nel caso in cui questo, non so, la situazione che ci sarà a febbraio, quando avverrà la giornata, spero sia un po' meglio di adesso, e se proprio la situazione invece sarà critica e quindi magari difficile, il banco farmaceutico attraverso i volontari e gli enti proverà a dare almeno l'assistenza telefonica alle farmacie. E come in questo caso, per esempio, di questa diretta, cercherà di arrivare a tutti gli amici attraverso magari dei messaggi, o una locandina, oppure un messaggio, o qualche altra cosa, per poter pubblicizzare comunque alla fine l'iniziativa. L'iniziativa sarà dal 9 al 15 febbraio, con il sabato, diciamo, del 13, nella quale è proprio la GRF vera e propria. Proprio perché la GRF, cioè giornata di raccolta del farmaco, avviene tutti gli anni, e nel secondo sabato di febbraio. Però da un paio di anni, anche su richiesta soprattutto dei farmacisti, in qualche modo è stato richiesto di magari di allungarlo un po', e quindi si è data la possibilità anche alle farmacie di poter fare in modo che potesse avvenire dal 9 al 15, cioè per una settimana intera. Concludo dicendo che ovviamente, e mi riallaccio alla questione della sussitarietà, in questa questione Banco Farmaceutico c'entra in tutto, no? Proprio perché fa un lavoro di raccordo, ma i protagonisti sono altri, secondo me. Cioè i protagonisti sono le farmacie, gli enti che si impegnano, i volontari e le persone che donano. L'unico vero merito, tra virgolette, di Banco Farmaceutico coordinare tutte queste, diciamo, si coordinare queste figure e fare in modo che questa sinergia possa funzionare al meglio possibile. Allora, ti ringraziamo, Maria Teresa, ci diamo del tutto perché, insomma, ci permette di riconoscerci reciprocamente con il tuo. Ti ringraziamo per le informazioni esaustive che ci hai dato sulla Fondazione Banco Farmaceutico e sulle iniziative che sono state svolte territorialmente nella provincia di Latina e soprattutto questa grande sensibilità verso il protagonismo nella raccolta del farmaco che è da parte di chi suona. È il singolo gesto del cittadino che dona, che rende questa giornata grande grazie alla sinergia delle farmacie e dei volontari. Ma appunto i protagonisti sono quei tantissimi, spesso anonimi, cittadini che magari lasciano anche in maniera anonima la loro donazione al farmacista perché ne faccia, diciamo, ne metta appunto nella scatola materialmente il farmaco che ritiene più necessario. Quindi nel concedarti, Maria Teresa, ti ringraziamo e curiamo questo passaggio dalla Fondazione Banco Farmaceutico Nazionale. Quindi lo ripetiamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Quest'iniziativa sarà dal 9 al 15 di febbraio. Tutti da 9 al 15 di febbraio potranno donare un farmaco alle farmacie che aderiscono alla giornata di raccolta del farmaco. Questo significa che potranno farlo non solo a Cori, non solo a Giulianello, che appunto fanno parte della nostra comunità e che noi ci siamo mossi perché ci sia una sensibilizzazione della nostra comunità, ma si può fare ovunque, ovunque si trovi una farmacia che aderisce alla giornata della raccolta del farmaco. E allora passerei, ringraziando Maria Teresa, passerei la parola ai farmacisti del territorio. E in primo luogo a Michele Modugno, di rappresentanza della farmacia De Gregorio, per raccontarci la sua esperienza e la sua disponibilità alla futura giornata, anzi settimana, della raccolta del farmaco. Quindi, Michele, ci fa piacere che tu ci possa dire qualcosa sulla vostra esperienza come farmacia e sulle motivazioni anche che vi spingono ad aderire, fermo restando che, lo diciamo preventivamente, viviamo in una comunità in cui tutte le farmacie del territorio sono state sempre sensibili alla sofferenza, diciamo così, perché poi chi sta male si porta dentro una grande sofferenza che a volte significa anche grossi problemi economici. Quindi c'è già, come dire, quotidianamente da parte delle farmacie del territorio di Gori e Giulianello una grande sensibilità. A te la parola, Michele. Grazie, Antonella. Allora, buonasera a tutti. Io, per quanto riguarda la sensibilità aziendale, diciamo, sottolineo, e mi riallaccio anche a Mauro, che le aziende, le farmacie hanno un comportamento naturalmente solidale perché viviamo in un contesto, quello della nostra comunità, del nostro popolo, che è estremamente solidale, per cui noi in qualche maniera, ad avviso mio personale, siamo un pochino lo specchio di quello che succede, per cui mi riallaccio a quanto diceva il sindaco, la risposta della popolazione è meravigliosa ed è quello che poi ci integra come comunità perché diventiamo in qualche maniera un pochino tutti più empatici, più in grado di dialogare con l'intimità propria e degli altri, soprattutto quando ci sono problematiche riguardanti la salute. Problematiche di salute che in questi anni andranno a diventare sicuramente anche problematiche di altro tipo perché la pandemia probabilmente andrà ad esacerbare le differenze, quella che si chiama forbice sociale, insomma, per cui è importante che quello che siamo andati costruendo come comunità venga confermato negli anni e rafforzato e per questo noi accettiamo con gioia la partecipazione della popolazione e per quelli che sono le nostre possibilità, i nostri orari d'apertura, insomma, per cui abbiamo aderito immediatamente, sicuri che questo, in questo anno, sia utile. e mi permetto semplicemente di aggiungere che il ruolo che possiamo avere ma che la comunità ha già perché Cori è una comunità non solo solidale ma anche estremamente attenta e razionale nell'utilizzo sarebbe importante integrare, a mio avviso, le giornate contro lo spreco farmaceutico perché si può fare tantissimo anche per l'aumento dell'efficienza. Quante confezioni ancora oggi, e mi riferisco anche a quello che vedono le colleghe quotidianamente accadere nelle proprie aziende, va a finire nella raccolta dei farmaci scaduti, farmaci che potrebbero vivere di vita propria e andare a risolvere o allenire le problematiche di salute che moltissimi pazienti hanno per cui l'uso razionale e l'educazione sanitaria fatta in farmacia permetterebbe per quello che è la nostra comunità tranquillamente di aprire anche l'altra compagine, se vogliamo, del banco farmaceutico e quello del recupero di farmaci validi iniziativa che mi auguro già dall'anno prossimo possa cominciare a essere integrata nella nostra piccola comunità per cui, diciamo, detto questo io penso che il mio intervento si possa chiudere qui perché la differenza la farà ancora una volta la popolazione, insomma. Grazie Michele, noi ci auguriamo appunto che questa differenza la faccia effettivamente la popolazione non solo nel corso della settimana per la raccolta del farmaco ma in queste iniziative che tu stai proponendo sul recupero dei farmaci che può da parte nell'iniziativa che ha portato avanti fin dall'inizio Poligonal insieme a Protezione Civile e Caritas nell'ambito del progetto OpenCore in qualche modo ha fatto, avendo una postazione banco farmaceutico presso la struttura dell'ospedale di comunità di Cori nell'ex portineria in cui abbiamo iniziato con i medici di famiglia col personale ospedaliero, con le persone che sono al punto di primo intervento e gli ambulatori a fare questa raccolta indiretta del farmaco non utilizzato ma ancora valido. E questo ha permesso per esempio di far fronte ad esigenze di categorie di persone come i soggetti rifugiati sul nostro territorio che non hanno nemmeno il diritto di accesso al farmaco gratuito. Quindi noi l'abbiamo fatto informalmente nonostante abbiamo sollecitato ripetutamente le istituzioni sia la ASL che il comune di sottoscrivere un protocollo di intesa e credo che ormai i tempi sono maturi per farlo ed è quello che ci proponiamo di fare in questo 2021, sottoscrivere un protocollo di intesa in cui ci siano più attori le associazioni, le istituzioni, la ASL, le farmacie perché possa essere possibile questa raccolta del farmaco non più utilizzato per mille ragioni, perché si è cambiato terapia o perché purtroppo la persona che utilizzava quel farmaco è scomparso ma ha ancora l'armadietto con quei farmaci perché a questo farmaco venga data nuova vita e si combatta quello che è lo spreco farmaceutico che poi cammina quasi di pari passo con lo spreco alimentare ma questo sarà un altro capitolo di questa iniziativa che potremmo avere nella seconda parte. Intanto ringraziando Michele e permettendogli di congelarsi e di asseguitare la propria attività visto che è di turno in farmacia passerei la parola all'ottoressa Maria Rita Nobili in rappresentanza della farmacia Nobili salutando Michele arrivederci chiedendo quindi a Maria Rita gentilmente di documentarci la propria esperienza e le proprie motivazioni a questa iniziativa importante a te la parola Maria Rita Grazie, buonasera a tutti e niente ecco quest'anno è un anno molto particolare siamo tutti molto un po' scioccati però insomma ecco la comunità di Cori risponde positivamente i servizi sociali insomma c'è tutto un insieme di iniziative che il comune porta avanti noi come farmacia ecco è stato molto insomma bello poter partecipare ad aiutare il comune in questa iniziativa di fare il drive-in per i studenti di Cori e ecco poi quest'anno ecco questo mi ricordo insomma le esperienze le prime esperienze del banco farmaceutico con i volontari che ci sono stati siamo stati sempre sempre una bellissima esperienza poi ci sono stati perché prima si poteva fare soltanto in una giornata capitava che noi non eravamo punto di turno e quindi non abbiamo potuto continuarlo in questi anni e mi ricordo proprio mio padre chiese questo favore insomma se si poteva fare la dottoressa Antonella due o tre anni fa questa cosa di aumentare le giornate e ecco quest'anno lo dedico questa settimana all'accolta del farmaco in memoria di mio padre che è stato un farmacista sempre attento alla solidarietà al malato ai bisogni del paziente sempre al primo posto il malato è stato per lui una ragione di vita potrei dire sì 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 e quindi ecco questa settimana sarà per noi dedicata a lui insomma tutto il team della farmacia sempre presente insomma è solidale anche loro in tutte le iniziative e quindi speriamo che che ci sia diciamo che si andrà tutto bene che sarà possibile ovviamente ecco mettendo a come diceva anche la dottoressa volontario fuori che magari si potrà gestire un po' meglio fortemente la farmacia è abbastanza grande quindi insomma ci permetterà di poter gestire al meglio la cosa insomma e qualsiasi ecco iniziativa noi saremo sempre pronti insomma disposti a partecipare e vi ringrazio e speriamo insomma che andrà tutto che andrà tutto bene come lo slogan che ormai si si fa con questo covid insomma buona lavorazione grazie grazie Maria Rita e grazie soprattutto insomma per il ricordo di tuo papà che è credo nel cuore di tutta quanta la comunità di tutta quanta la comunità corese che purtroppo in questo periodo di covid non ha come potuto come dire essere vicina a voi come farmacia come figli come famiglia come come avrebbe come avrebbe voluto quindi credo che sia questo questo sentimento è condiviso da tutta la comunità di Cori e di Giulianello e diciamo che non c'è niente di meglio che poter proseguire attività in favore dei soggetti più deboli per ricordare poi le persone che ci hanno lasciato la loro memoria vive grazie alle azioni che noi possiamo continuare a fare il loro nome Angelo mi avvisa che abbiamo problemi tecnici con la farmacia San Giuliano e quindi oltre che ripetere dal 9 al 15 di febbraio saranno possibili le donazioni alle farmacie di Cori e Giulianello nello specifico alla farmacia De Gregorio alla farmacia Nobili e alla farmacia San Giuliano tutti i cittadini si potranno recare e donare uno o più farmaci per il banco farmaceutico speriamo che sia possibile che ci sia anche la possibilità di dare spazio a volontari che si alternino per fare l'accoglienza a tutti quanti insieme e a questo proposito per parlare di come l'accoglienza per la raccolta del farmaco si possa fare anche allegramente tra virgolette passerei la parola a Giulia Ciafrei che è responsabile del CNJ a Giulianello il gruppo scout laico e che da anni con i propri ragazzi adolescenti ma anche più grandi però sottolineo il valore educativo per i ragazzi adolescenti fanno volontariato per il banco farmaceutico quindi Giulia raccontaci la tua esperienza e prenditi anche qualche minuto in più visto che è saltato il collegamento con la farmacia San Giuliano quindi sei te la portavoce per Giulianello grazie Antonella buonasera a tutte e a tutti grazie per questa opportunità perché ci permette non solo di parlare appunto di quello che abbiamo fatto e che spero di continuare continueremo a fare per questa specifica iniziativa ma anche insomma un pochino di presentare quello che facciamo con l'associazione per una comunità solidale appunto che è quella di Cori e Giulianello noi abbiamo fatto servizi e accogliamo con favore appunto servizio di questo tipo che fa l'idea del servizio fa parte proprio dell'aspetto educativo della nostra associazione noi con appunto gli scout si prevede o tentiamo insomma noi che siamo educatori volontari di formare buoni cittadini e quindi di fare uscire nell'età adulta dei ragazzi e delle ragazze che riescano ad avere una cittadinanza attiva o col volontariato con altre attività ma che comunque abbiano una consapevolezza sulle scelte che quindi vivano appunto attivamente i loro territori l'attività nello specifico del banco farmaceutico ci ha permesso di coinvolgere tutte le fasce d'età che noi accogliamo nella nostra associazione in questa attività di volontariato cosa che non è purtroppo sempre possibile perché appunto alcune attività di volontariato sono riservate magari spesso ai più grandi invece l'aspetto appunto della raccolta del farmaco e della promozione di questa attività ci ha permesso di coinvolgere tutti i ragazzi quindi parliamo di una fascia d'età che va dagli 8 ai 19 anni è stato molto interessante soprattutto perché anche i più piccolini si sono avvicinati a un aspetto sanitario però non in maniera di preoccupazione o di tristezza ma in maniera appunto della pensando appunto alla donazione all'aiuto dei più piccoli che si sono fatti un po' promoter dell'iniziativa anche nella farmacia è stato molto oltre che utile insomma nello spirito ma anche si divertente per i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato quindi speriamo che anche quest'anno riusciremo a collaborare sicuramente con un numero minore di volontari sicuramente i più piccolini proprio per una questione di rischi e responsabilità forse non potranno essere presenti però cercheremo insomma di organizzarci e dare il nostro contributo come abbiamo sempre fatto per quanto riguarda quello che accennava Antonella all'inizio e quindi della lotta alla povertà chiamiamola così che si fa all'interno della comunità di Cori Giulianello noi siamo presenti sul territorio da più di 20 anni e se proprio ci dobbiamo collocare all'interno di una comunità solidale io parlerei di alternativa a quella che è la povertà educativa che come ben sapete non è solo una povertà in termini economici ma è una povertà magari di attività di risorse di opportunità che si offrono ai ragazzi e alle ragazze all'interno di un territorio ecco noi cerchiamo nel nostro piccolo di accogliere appunto ragazzi e ragazze dagli 8 ai 19 anni di fare delle attività che sviluppino il senso critico rispetto per l'ambiente rispetto per l'altro la cittadinanza la cittadinanza attiva il servizio il volontariato e tutto quello che si spera formerà un futuro dei buoni appunto dei buoni cittadini con il covid fortunatamente il dpcm ci permette di operare quindi a parte un periodo di stop del lockdown in cui non abbiamo potuto fare attività dal vivo ma anche noi ci siamo adattati alle modalità online noi abbiamo ripreso le nostre attività faticosamente perché comunque le precauzioni da prendere sono tante aumentano le spese siamo associazioni comunque appunto di volontariato che vivono di autofinanziamento però siamo molto molto felici di offrire un'alternativa ai ragazzi e alle ragazze e alle famiglie soprattutto in questo momento in cui purtroppo tante attività sono ferme e quindi i ragazzi adolescenti preadolescenti ma anche più piccolini soffrono tantissimo il fatto di non poter socializzare di non poter uscire di non poter fare tutto quello a cui erano magari abituati noi ci sforziamo appunto per garantire sicurezza e per appogginare anche in questo senso una povertà educativa da un punto di vista della socializzazione della capacità di mettersi in relazione del divieto di usare il corpo per le relazioni normali quindi l'abbraccio la mano e tutto quello che torna noi cerchiamo stiamo cercando tanto in questo momento di mantenere appunto dei rapporti affettivi e di relazione di sensibilizzare i ragazzi in questo senso anche se il periodo ci limita però crediamo che insomma pensiamo che si è convintamente di resistere proprio perché la cittadinanza ne ha bisogno a noi ci fa piacere perché insomma facciamo i volontari non perché qualcuno ci ha obbligato ma perché facciamo le cose con molto piacere e poi soprattutto appunto per ragazzi e famiglie che trovano nello scaudismo in questo momento uno sfogo non da poco è proprio un ambiente ecco sereno di famiglia felice come diciamo noi voglio avere un genitore che voglia appunto proporre l'attività scout del CNJ quando ci siete dove siete così diamo abbiamo la fede a Giulianello di fronte alla pizzeria di Peppe prima della stazione per capirci i più piccoli fanno riunione il sabato mattina i più grandi quindi fascia 16-19 anni il mercoledì sera e l'età intermedia 12-16 anni o il sabato mattina o il sabato pomeriggio anche a seconda di adesso le scuole stanno un po' cambiando con rientro ricambiano gli orari quindi siamo un po' in balia delle decisioni scolattiche però facciamo riunioni per due ore abbiamo una pagina Facebook del gruppo quindi ci potete trovare anche su Facebook magari la mettiamo in sovra in versione grazie è un'attività che appunto senza impegno perché noi faccio un po' di pubblicità noi copriamo con la nostra assicurazione provvisoria i primi due mesi di attività di ogni ragazzo nuovo che viene quindi c'è la possibilità di provare sempre nella massima sicurezza di provare le nostre attività e poi eventualmente insomma noi speriamo di restare con noi oltre al banco farmaceutico iniziative che tu ritieni importanti nei confronti della comunità giulianese da parte del vostro gruppo se magari ci fai qualche altro noi abbiamo partecipato spesso a giornate ovviamente ambientali la provincia del lago eccetera abbiamo fatto delle attività all'interno di un centro anziani a Giulianello questa anche con i più piccolini per parlare di attività un po' più grandi insomma anche impegnative gli adulti della nostra associazione siccome la nostra è un'associazione legata alla protezione civile da un livello nazionale abbiamo fatto attività durante il terremoto di Amatrice ancora prima quello dell'Aquila ancora prima con le alluvioni insomma ci sono volontari che sono partiti e sono andati a fare attività la cosa importante è che tanti ragazzi e ragazze di Giulianello appena usciti dagli scout hanno avuto la possibilità di sperimentarsi in servizi così importanti quindi io credo che non c'è solo un'attività verso la comunità ma anche la nostra attività interna poi permette alla stessa comunità di fare esperienze veramente eccezionali diciamo che l'importanza dell'educazione è guardare dentro ma guardare anche fuori quindi guardare all'interno della propria comunità ma avere sempre uno sguardo rivolto all'esterno che ci permetta appunto di coltivare i nostri gli spazi di crescita lavoriamo contro la violenza sulle donne abbiamo collaborato con l'attività con loro abbiamo collaborato con il CAS e quindi abbiamo fatto delle giornate con i ragazzi emigranti anche con la casa famiglia che sta giù a Cori abbiamo fatto un campo invernale quindi c'è stata una giornata in cui abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con i ragazzi e le ragazze accolte lì quindi insomma siamo abbastanza attivi da questo punto di vista e mi permetto di ringraziare tutti Poligonal ma tutte le associazioni che ogni volta insomma ci invitano a collaborare con loro e che ci hanno dato la possibilità di integrarci sul territorio e insomma di stare insieme per delle cose così belle allora grazie veramente di cuore a Giulia soprattutto per questa vocazione all'educazione giovanile del gruppo CNJ che diciamo in tempi di covid resiste ma soprattutto questa resistenza è qualcosa che ci auguriamo prometta bene perché formare ed educare i giovani in periodi in cui ci sono restrizioni così forti è una grande scommessa sia per noi adulti ma se per noi adulti è una grande scommessa per loro giovani è un investimento sulla loro sensibilità e sulla loro capacità di comprendere l'altro e gli altri in maniera più piena quindi ringrazio Giulia per questa attività e per l'assenza della dottoressa Patrizia Moroni della farmacia San Giuliano rinnoviamo diciamo la disponibilità della farmacia San Giuliano dal 9 al 15 di febbraio per la raccolta del farmaco e per la possibilità di farti esperienza come volontari come ci hanno dimostrato il gruppo CNJ di Giulianello quindi grazie ancora Giulia e in questa carellata che vuole appunto aprirsi alle diverse ai diversi aspetti della solidarietà in una piccola realtà come Corica 10.000 abitanti non poteva mancare non di presente direi in tutte le situazioni critiche protezione civile è con noi Roberto Ceracchi che pregherei di aprire il suo microfono altrimenti non sentiamo la sua voce è con noi Roberto Ceracchi che è il responsabile della protezione civile di Cori e che dobbiamo dire è stata la realtà che durante questo periodo di pandemia da quando è stata annunciata fino ad oggi senza senza un attimo di respiro ha continuato ad essere presente su tutto il territorio ecco Roberto spiegaci soprattutto il ruolo che riveste la protezione civile quando appunto c'è un'emergenza come quella che si è protratta nel corso di quest'anno che è quella del covid con la costituzione di un gruppo che monitora proprio questa emergenza ecco raccontaci questo e poi insomma proseguiamo gli faccio altre domande per raccontare meglio la protezione civile a 360 gradi sul nostro territorio beh noi come protezione civile il COC in pratica noi facciamo parte del COC che ha aperto il sindaco l'anno scorso a marzo e quindi non è non è stato poi più chiuso il centro operativo comunale e dal COC poi noi partecipiamo diamo aiuto a chi ha bisogno portiamo chi è positivo che è a casa o in quarantena e non ha nessuno che gli possa portare diciamo farmaci alimenti noi siamo qua per questo facciamo quello che possiamo fare per aiutare chi ha bisogno questo qua è il lavoro che stiamo facendo adesso montiamo abbiamo dato una mano quando hanno fatto i tamponi a Gianello le farmacie di Cori insomma hanno fatto i tamponi e aiutiamo il comune tutto e per tutto per quello che possa riguardare l'emergenza Covid l'assistenza operativa mi sembra di capire noi ci occupiamo più della logistica quando ci chiama il comune nell'emergenza e poi diamo una mano a chi ha bisogno nel tutto questo questo significa allestimento di stand nelle emergenze disponibilità di mezzi si tutto questo tutto quello che riguarda la logistica la dovremmo fare la facciamo noi no la dovremmo la facciamo noi la fate voi quotidianamente e come gruppo protezione civile voi siete a Cori da da quanti anni operate a Cori la protezione civile nasce circa nel 95 e da allora ecco siamo qui operativi poi noi abbiamo oltre al tutto questo abbiamo fatto l'emergenza sia l'accumuli terremoti abbiamo accumuli siamo proprio al centro di accumuli a fare il campo insomma dopo tutto questo facciamo il banco farmaceutico abbiamo anche il banco alimentare insomma facciamo una serie di iniziative per chi sostanzialmente per chi ha bisogno perché se no non avremo modo di esistere se non aiutiamo chi ha bisogno non avremo modo di esistere quindi Roberto banco alimentare e il banco farmaceutico come funzionano? cioè un cittadino che ha bisogno un cittadino che ha bisogno può venire direttamente da noi noi però lavoriamo a stretto contatto con i servizi sociali e chiaramente loro ci dicono le persone e mandano le persone sostanzialmente va in base noi chiediamo un modello di sei ma non perché per essere certi che la persona abbia bisogno insomma ecco non è che possiamo andare a a indagare a fare non siamo tenuti a fare questo chiediamo solo il modello di sei che se non supera una certa cifra anche perché dobbiamo rispondere al Banco Alimentare Nazionale e dirgli noi stiamo aiutando questa persona perché è così e quindi ecco facciamo questo tipo di di lavoro non ci riceviamo una volta al mese andiamo a caricare anzi una volta al mese gli alimenti adesso stiamo abbiamo il magazzino qua vicino a Aprilia li portiamo a Cori poi un giorno è dedicato a questo a questo servizio dove le persone che si possono muovere da casa vengono da noi in sede e poi facciamo un altro servizio che ci sono delle persone che non si possono muovere che non hanno possibilità di movimento e glielo portiamo direttamente a casa però cerchiamo sempre di non farlo perché sennò diventerebbe uno uno spreco di energie non è indifferente insomma non è che possiamo per chi può bene che si attivi insomma come anche perché parliamo di parliamo circa di 70 famiglie insomma e non è non è poco a livello a livello tra Cori e Gianello ma queste 70 famiglie sono aumentate nel corso della pandemia o sono aumentati i loro bisogni no sono aumentate nella pandemia sono aumentate perché l'anno scorso prima di cominciasse la pandemia non arrivavamo a 50 il problema è che sono aumentate le famiglie che noi viviamo mensilmente ma poi queste si vanno ad aggiungere altre persone che in caso nel lavoro per esempio chi fa il cameriere nei ristoranti queste cose insomma non hanno possibile lavoro e si trovano in difficoltà fortunatamente poi il comune aiutato dai commercianti ha fatto la spesa su spesa e riusciamo ad assolvere a queste famiglie insomma aiutare queste famiglie con la spesa su spesa che ci danno gli alimentari insomma quindi diciamo è importantissima di nuovo questa sinergia tra la protezione civile i servizi sociali del comune le appunto i negozianti di alimentari che sono sul territorio del comune di Corie che permettono questa importante iniziativa della spesa su spesa ma appunto oltre a queste iniziative se noi avessimo adesso degli ascoltatori che si sono incuriositi sul sul lavoro della protezione civile magari volessero fare un'esperienza da voi come come è possibile farla a chi si debbono rivolgere si possono rivolgere al numero della protezione civile noi accettiamo tutti perché siamo più siamo e meglio è io penso sempre io ho un ho un mio motto che se una persona decide di fare una cosa trova una soluzione se sono dieci persone per fare quella cosa trovano dieci soluzioni forse se ne trova una migliore di quella di una persona che lavora da sola certo quindi l'opportunità di diciamo di accogliere nuovi volontari per poter migliorare le risposte sul territorio ma anche appunto entrare in contatto con soggetti diversi come in questo caso i commercianti che si sono attivati per la per la spesa sospesa e allora ecco rinnoviamo al nostro pubblico quindi la disponibilità da parte della protezione civile per queste iniziative importanti che sono quelle dedicate alla lotta alla povertà e che sono appunto banco alimentare e contemporaneamente banco farmaceutico aperto una volta al mese il cui filtro diciamo sono i servizi sociali cioè tramite le segnalazioni dei servizi sociali le persone arrivano diciamo così al vostro al vostro sportello mensile possono ottenere il pacco viveri oppure il farmaco per quanto riguarda appunto la distribuzione dei farmaci i farmaci che vengono raccolti dalla iniziativa che si tratta dal 9 al 13 di febbraio si tratta di farmaci che sono appunto in fascia C quindi sarebbero i farmaci a pagamento anche di quei farmaci oltre ad avere la segnalazione da parte dei servizi sociali per accedervi è bene avere anche documentata una prescrizione medica che appunto manifesti la necessità di quella tipologia di farmaco questo perché diciamo il farmaco non è come l'alimento che dipende dal gusto ma è qualcosa che appunto deve curare una malattia e le malattie le curano i medici e a questo proposito noi ringraziamo anche tutti i medici di medicina generale i medici di famiglia di Cori a cui abbiamo presentato negli anni l'iniziativa del banco farmaceutico e qualora ne abbiano necessità è accessibile a loro la postazione banco farmaceutico dove sono depositati i farmaci sia quelli di raccolta da donazione sia quelli di raccolta perché è farmaco dismesso ma valido e non usato tutti i medici possono accedervi lo sportello diciamo così banco farmaceutico presso l'ospedale di comunità è nell'ex portineria le chiavi di quel locale sono nella disponibilità dell'associazione Poligonal che cura diciamo così l'archiviazione dei farmaci nel senso che appunto ne abbiamo stilato come si dice la quantità di farmaci e la qualità dei farmaci che ci sono quindi abbiamo una lista di tutti i farmaci che sono lì e curiamo diciamo trattandosi anche di recupero di farmaci e a un certo punto dobbiamo anche curare come dire la dismissione del farmaco per la scadenza quindi è il nostro onere curare diciamo così gli armadietti del banco farmaceutico sia virtuali che reali le chiavi del locale exportineria rimangono a disposizione dell'ospedale di comunità che durante questa pandemia ne ha usufruito perché c'erano tutta quanta una serie di problemi e ne potrà usufruire perché anche l'ospedale di comunità di cui fanno parte i medici di famiglia gli infermieri che curano i degenti e il personale ambulatoriale dei punti di primo intervento come dire ha una autorizzazione che non è al momento non è scritta ma che c'è nei fatti e avendo la responsabilità di verificare le persone che hanno bisogno di determinati farmaci non se lo possono permettere molte volte queste persone o stanno ricoverate nell'ospedale di comunità o si rivolgono al punto di primo intervento o ad altre situazioni ambulatoriali e quindi riteniamo giusto che ci sia questo coinvolgimento corale di gestione di questo banco farmaceutico ma la solidarietà sul nostro territorio non è solamente banco farmaceutico appunto ogni realtà associativa ha tante azioni che svolge sul territorio e non possiamo non citare e dare spazio all'attività che posso dire svolge molto spesso in silenzio o di nascosto in maniera non eclatante la Caritas che opera per le parrocchie del comune di Cori e di Giulianetto e quindi sono presenti qui insieme a noi ad illustrare questa attività la signora Franca Martinelli che si occupa secondo me di uno degli aspetti più importanti e direi più stacanovisti della Caritas che è la mensa Caritas che io ho scoperto cioè davo questo servizio in questa epoca di pandemia come un servizio che non fosse attivo invece parlando con Don Angelo lui mi ha detto ma come no noi siamo attivi fin dalla fine del primo lockdown stiamo rispettando perché questo è importante rispettando le norme anti-covid siamo riusciti a garantire tutti i giorni un pasto a tutte le persone che ne hanno bisogno allora Franca ti prego di raccontarci intanto le motivazioni che ti spingono a fare questa cosa io credo che non ci sia niente di più bello per chi diciamo per chi sa cucinare diciamo così perché io non ne sono capace confesso le mie come dire le mie mancanze non c'è niente di più bello che creare le condizioni per un pasto caldo alle persone che ne hanno bisogno quindi raccontaci la tua esperienza Franca come funziona buonasera a tutti io in realtà ho cominciato da lontano 1998 a frequentare la Caritas da quando è stata aperta qui a Corico tutte e due le parrocchie e quindi ho fatto un bel bagaglio di esperienza essendo una scout adulta io sono portata per il servizio quindi mi sono sempre dedicata a queste cose e da quando è stata aperta qui su a Cori dalla parrocchia San Pietro e Paolo che stiamo operando tutti i giorni praticamente e nel periodo del lockdown siamo dal mese di di marzo e aprile non non si cucinava però abbiamo fatto tutti i giorni i panini quindi abbiamo garantito quel poco che poi mettavamo un po' di tutto frutta dolce e panini e quindi giornalmente si faceva il turno di ogni gruppo ogni giorno andavamo preparavano i panini e venivano consegnati e quindi diciamo fino ad oggi andiamo avanti con con gli ospiti che sono intorno a un numero di 12 persone al giorno 10-12 persone al giorno per garantirgli appunto un pasto caldo tutti i giorni e grazie a Don Angelo che riesce sempre ad organizzare tutto facciamo questo servizio Allora Don Angelo riesce a organizzare tutto però c'è una macchina organizzativa dietro la mensa carica Certo siamo come operatrici c'è solo un maschietto che collabora con noi siamo diciamo operiamo 6 giorni su 7 con turni di 2 persone al giorno quindi siamo siamo un numero di 12 persone 12-3 persone però siamo tutte persone non tanto giovanissime avremo bisogno di un po' di gioventù E allora Franca io direi che qualcuno ci sta ascoltando che la mensa carica si è aperta a tutti il volontariato è sempre ben accetto da tutti quindi aspettiamo soprattutto persone giovani però noi comunque andiamo avanti lo stesso ok grazie Franca per questo noi andiamo avanti lo stesso ma insomma si coglie in realtà uno uno spirito forte nelle parole che dici e poi appunto fare i volontari per un giorno tra virgolette posso dire che è facile impegnarsi quotidianamente tutti i giorni a mantenere un servizio che è attivo sei giorni a settimana diventa quasi come lo prende come un lavoro anche se non ci prende niente però c'è la serietà dell'impegno di queste di te soprattutto che coordini tutto e delle persone che con te si coordinano in questa attività ecco per appunto per preparare il menù della mensa Caritas chi vi aiuta eh facciamo noi facciamo noi non ci aiuta nessuna facciamo tutto noi quello che abbiamo disponibile facciamo ci sono anche persone che fanno per venire che ne so una cassetta di frutta assolutamente sì 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 ci sono delle nel senso voglio dire ci sono queste donazioni spontanee da parte di cittadini di Cori che dicono eh voi che fare la Caritas ecco c'ho 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 la zucca c'ho che ne so c'ho carciofi eh qualcosa arriva sì e volevo volevo ricordare che Cori è praticamente il bar della vecchia Cori e il periodo di Pasqua ha fatto una rifa e ricavato l'ha offerto alla Caritas per un totale di 1140 euro quindi il ricavato di questa rifa praticamente è stato donato l'ha offerto alla Caritas è stato donato alla Caritas perché la Caritas lo remutasse in alimenti esatto per la mensa esatto sì e quindi veramente sul nostro territorio ci sono appunto tanti volti nascosti del volontariato per Natale lo stesso qualche offerta è arrivata dalle persone individuali proprio che chi poteva qualcosa chi vuole fare appunto questo tipo di donazioni a chi si deve rivolgere a Don Angelo a Don Angelo a Don Angelo sì il coordinatore è Don Angelo non c'è un il coordinatore è lui sì 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 ok e noi stiamo attorno a lui ok quindi insomma voglio chiedere una cosa se posso prego a proposito dei farmaci che sono disponibili lì all'ospedale in riferimento al banco farmaceutico ma che se per esempio noi in mensa abbiamo una richiesta che ci dobbiamo pensare noi oppure possono venire direttamente gli ospiti allora questa richiesta se l'avete voi noi mettiamo a disposizione il numero telefonico delle persone di Poligonal che si occupano insomma di di trovare la soluzione al problema insieme ovviamente al al medico di di famiglia ok questa diciamo è la modalità quello che vorremmo attivare nel tempo ci abbiamo provato anche lo scorso anno ad attivare delle competenze digitali per cui si possa riempire una richiesta online che diciamo arriva senza dover fare la telefonata eccetera eccetera e poi viene viene istruita in cui si mettono i dati però ci rendiamo conto che voglio dire appunto le condizioni e la situazione delle persone che che sono in povertà oppure le persone che si occupano di volontariato appunto spesso per un'età che hanno non sono competenti digitalmente diciamo così e quindi ci stiamo ponendo come dire l'obiettivo di formare anche le persone più anziane anche le persone più fragili ad utilizzare gli strumenti digitali ma come per ottenere un risultato più immediato e più facile senza troppi giri telefonate di persone che non trovi eccetera eccetera e quindi riuscire a diciamo così ad avere un occhio sistematico sui bisogni che ci sono sul territorio avvalendoci gli strumenti informatici questo non vuol dire che non ci debba essere il contatto umano anzi il contatto umano è il presupposto per comprendere il bisogno il bisogno delle persone e però come dire le macchine ci permettono come dire di aumentare che cosa la performance tra virgolette e quindi diciamo così di essere più bravi né a sapere quali sono i bisogni che si ripetono nel tempo cioè avere stiamo cercando anche di fare come dire delle statistiche che ci possano permettere un po' di fare un bilancio sociale della comunità per quanto riguarda i bisogni in condizioni di povertà o comunque di disagio perché ci può essere anche disagio che è di diversa natura che non è la povertà ma a cui comunque bisogna dare risposta io penso che sia anche vostra esperienza che magari immensa possa venire anche una persona che apparentemente uno dice ma no quello non ha problemi economici no? C'è bisogno di vedere qualcuno no? Sì e quindi viene a me per chiacchierare per chiacchierare per qualcuno che gli rivolga la parola no? Questo insomma fa parte però insomma della capacità di tenere le persone vive nei loro lati positivi no? Coltivare una relazionalità positiva all'interno di una comunità è diciamo il valore più importante che poi permette il resto che poi permette di poter essere una volta io bisognoso ma l'indomani io volontario no? se come dire collaboriamo insieme riusciamo anche a creare un'intercambiabilità dei ruoli cioè non ci sarà sempre solo quello che chiede ma anche quello che chiede un giorno dirà ma forse anch'io sono capace di fare questo che può essere messo al servizio della comunità e questo credo che sia il messaggio più importante che possiamo dare proprio in questo periodo in cui c'è tanta sofferenza silenziosa determinata davanti i fattori forse il primo appunto la solitudine delle persone anziane un altro l'impossibilità di poter stare accanto alle persone a cui teniamo perché proprio ci teniamo siamo costretti a starcene lontani e quindi viviamo diciamo questi fortissimi paradossi che poi creano sofferenza diciamo nella nostra umanità però ecco farci sentire anche con questo mezzo che è una diretta facebook significa restituire il tanto di positivo che c'è nel nostro territorio e che spesso non riusciamo a vedere non riusciamo a valorizzare e non riusciamo a renderlo di esempio per tanti altri questo poi è l'obiettivo che oggi ci poniamo nel volontariato nella cittadinanza attiva nelle esperienze di sostegno per le altre persone in qualsiasi condizione esse siano c'è spazio c'è spazio veramente per tutti per i giovani che vogliono dare una mano per le persone più in là con l'età ma che sono ancora in gamba e ci hanno ancora tanto da dare a tutti e quindi a questo punto Franca se tu vuoi aggiungere qualcosa a me fa tantissimo piacere penso di aver detto tutto quello che dovevo dire ok ti ringrazio tantissimo ti ringrazio soprattutto per la tua tenacia che appunto dalla fine degli anni 90 che ti occupi immensa dal fatto che insomma sei giorni su sette sul pezzo insomma non è da tutto esatto grazie diciamo possiamo dire grazie da parte di tutta la comunità corese un grazie doveroso e sentito e che ci siamo giovani insomma presto che possano darti la mia mano a questo punto la passerei la parola ad Anna se c'è Anna Crocca ci sono ma non mi vedo non so perché ho acceso la telecamera ma non si vede ma la cosa più importante Anna è che tu parti allora Anna Crocca dici un po' il tuo ruolo nella nella Caritas io sono un'operatrice della Caritas mi impegno sia nella distribuzione noi facciamo distribuzione di pacchi alimentari e facciamo anche un centro d'ascolto che effettivamente forse è la prima cosa che si fa quando una persona arriva da noi e poi do anche il mio contributo alla mensa allora Anna io direi facci capire bene come si articola appunto il centro di ascolto io volevo dire questo credo che di associazioni di volontariato come abbiamo sentito ce ne sono tante la particolarità della Caritas è che il nostro servizio diventa azione e consapevolezza però in ordine al Vangelo della Carità quindi la nostra poi diventa una testimonianza del Vangelo ma che si traduce in azioni in gesti in segni e anche in legami di solidarietà e di condivisione detto questo i gesti si concretizzano nella distribuzione come dicevo allora noi abbiamo una sede intanto è un gruppo interparrocchiale il nostro ci sono persone della parrocchia di Santa Maria della Pietà che è la parrocchia che sta giù a Corivalle e persone della parrocchia di San Pietro abbiamo un'unica sede per tanti anni le parrocchie hanno lavorato un doppio centro uno che era giù a Santa Maria e uno su a San Pietro da qualche anno forse da 5 o 6 abbiamo raccolto le forze stiamo insieme e c'è questo centro di distribuzione è una sede una sede che noi abbiamo in via dei laboratori penso che guarda l'indirizzo è tra i due semafori credo quello che noi chiamiamo iferri il centro d'ascolto significa che quando arriva una persona che ne ha bisogno la prima cosa da fare è parlare con lui e quindi nel parlare nell'ascoltarlo si cerca di stabilire un possibile progetto che abbia come obiettivo l'aiuto per le situazioni di emergenza e facciamo la consegna di questi pacchi alimentari e la consegna di vestiario noi non abbiamo una sede dove possiamo mantenere in ordine e tenere con cura il vestiario per questo non non lo prendiamo più come si faceva prima un tempo c'era anche una sede dove si poteva diciamo sistemare questa cosa adesso la sede è più piccolina quindi preferiamo magari parlare con la persona che ci segnala un po' le necessità che ha e poi magari dare appuntamento alla persona nel momento in cui noi riusciamo a trovare le cose di cui ha bisogno tra di noi c'è una rete si passa parola all'interno della parrocchia attraverso le conoscenze attraverso il gruppo maschi rispetto alle cose che servono e si cercano di recuperare quindi diciamo all'interno della stessa parrocchia c'è una rete diciamo di comunicazione che si attiva tra i diversi possibili settori mi sembra le diverse realtà che sono all'interno della parrocchia quindi magari ci si rivolge al gruppo dei catechisti al al gruppo scout che non è un gruppo insomma interparrocchiale però è una realtà che naturalmente lavora con le parrocchie diciamo di diversi sensori che stanno sul territorio perché poi la fine si tratta di io quando ho bisogno di qualche cosa magari cerco di farmi venire in mente chi la può avere e poi attraverso anche il giro delle conoscenze delle amicizie cercare le cose che servono allora volevo dire noi gli alimenti li recuperiamo attraverso la Gea perché la Caritas parrocchiale è una diramazione della Caritas diocesana quindi noi abbiamo questi alimenti che ci arrivano attraverso il centro di smistamento che ha la Caritas diocesana ci chiamano quando arrivano gli alimenti e qualcuna di noi va giù e carica e porta in sede poi però utilizziamo anche i momenti forti dell'anno liturgico quindi il periodo dell'avvento il periodo della Pasqua e attraverso il gruppo dei cativisti cerchiamo magari di sensibilizzare anche i bambini a gesti concreti e durante il periodo dell'avvento ogni settimana si porta in parrocchia magari si fa la raccolta su uno specifico alimento e poi questi alimenti vengono raccolti e vengono portati in sede gli scout hanno all'interno della loro attività annuale credo almeno due o tre momenti in cui con il gruppo dei ragazzi si posizionano davanti ai grandi supermercati che sono a cori e raccolgono questi alimenti poi vengono impacchettati portati sopra sono naturalmente tutti alimenti a lunga conservazione e sono alimenti che poi noi gestiamo nel corso dell'anno quindi c'è una forte integrazione tra le diverse braccia della parrocchia no? sono necessarie sono assolutamente necessarie queste realtà che contribuiscono perché dire che si consegna il pacco a volte è anche un po' riduttivo certo c'è tutto un altro lavoro da fare la raccolta anche per esempio per l'abbigliamento insomma quindi diciamo che la Caritas affianca al calendario liturgico una sorta di calendario delle opere mi sembra di capire sì sì e quindi diciamo ferve un'attività che in qualche modo esplicita quella che io laicamente posso ma forse anche chi è fedele chiama la parola di Dio sì sicuramente l'ho detto in premessa che il nostro servizio è proprio azione concreta del Vangelo e poi è normale si va verso i poveri c'è bisogno il centro d'ascolto però è anche quello a volte magari una persona che ascolta già è sicuramente un aiuto perché stavo sottolineando prima a volte le povertà non sono soltanto quelle economiche ci sono anche altre povertà e a volte anche a noi capita che nel centro d'ascolto arrivano persone che hanno proprio bisogno di parlare ecco quindi possiamo dire per chi voglia svolgere attività volontaria nell'ambito della Caritas che in realtà la chiave d'accesso tra virgolette è è la parrocchia se vogliamo o le parrocchie se vogliamo perché le parrocchie diventano come dire la insomma chi dà la propria disponibilità nella parrocchia può svolgere la propria attività nella stessa nella stessa Caritas sì 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 ecco tu come diciamo tu che sono tanti anni che fai in questa esperienza come che cosa ti sentiresti di dire a un giovane che appunto voglia fare qualcosa per essere di aiuto agli altri io posso dire che in questa azione che si rivolge agli altri si riesce poi anche ad ottenere molto però quindi si dà ma si riceve tanto se ci sono delle persone volenterose che vogliono darci una mano si rivolgono a Don Angelo noi siamo ben lieti insomma di averli con noi quindi diciamo le azioni nel volontariato sono quelle che rendono meglio di tutte quante forse potremmo concludere così meglio di qualsiasi azione che compriamo in banca le vere azioni le vere azioni sono importantissime sono fondamentali le relazioni anche nel nel volontariato anzi sicuramente sono più importanti le relazioni e poi magari anche il gesto concreto ma la la relazione è la prima cosa mi sento di dire voi non avete mai istituito però diciamo una come dire una sorta di sportello volontario oppure avete delle delle riunioni per per svolgere attività volontaria cioè riunioni formative no noi abbiamo delle riunioni formative abbiamo delle riunioni che ci fa la diocesi ci fa proprio un percorso c'è una diocesi che organizza la caritas a livello diciamo diocesano la diocesi fa degli incontri fondamentalmente per farci capire proprio il concetto di carità quindi ci sono anche dei momenti di preghiera perché noi siamo un gruppo cioè che appartiene alla chiesa ci sono poi anche degli incontri se vuoi tecnici perché attualmente tutta la parte dei viveri che ci arrivano devono essere gestiti anche attraverso una banca dati quindi abbiamo questo doppio tipo di riunioni che ci arrivano dalla caritas diocesiana e poi noi in parrocchia facciamo comunque degli incontri perché a volte sono proprio importanti per magari parlare di qualche caso confrontarci tra noi relazionarci magari non sempre la stessa persona si trova a relazionarsi con la persona che ci arriva quindi è bene che le informazioni che le informazioni tra di noi vengano condivise senti Anna la protezione civile ci ha detto che come filtro diciamo ha i servizi sociali ecco voi il vostro rapporto con le istituzioni forse è un po' più libero rispetto alla protezione civile oppure avete delle aspettative insomma anche voi da parte delle istituzioni da noi arrivano delle persone che ci vengono segnalate anche dai servizi sociali ci arrivano delle persone che magari si rivolgono direttamente ai parroci e poi i parroci o ce le segnalano oppure danno magari il giorno in cui noi stiamo aperti e quindi arrivano direttamente in sede un lavoro però di collaborazione più stretta con i servizi sociali non sarebbe cosa economico produttiva diciamo l'obiettivo che ci potremmo dare tutti quanti nel corso di questo 2021 quando dico tutti quanti dico tutte quante le realtà che al loro modo in diversa misura si occupano di servizi solidari è quello di creare diciamo una rete più coesa anche con le stesse istituzioni insomma che sia più capace di integrarsi nelle risposte ai bisogni e nella capacità di trovare soluzioni a problemi più o meno grandi che debbono essere affrontati nel sociale sì indubbiamente sì un lavoro di rete aiuterebbe tutti secondo me aiuterebbe le associazioni di volontariato sto anche pensando per esempio che noi a volte qualcuno arriva con dei problemi che sono di ordine tecnico la compilazione per esempio di unise queste cose oppure qualcuno arriva chiedendoci avrebbero bisogno di un patronato insomma sarebbe opportuno riuscire a passare la palla a un soggetto diverso no? no però sto dicendo ecco qualcuno arriva anche con la necessità dice avrei bisogno di trovare lavoro lavoro non è che si trova così però se i servizi sociali riuscissero attraverso agenzie dare anche informazioni di questo tipo che a volte noi non abbiamo paradossalmente insomma ti rispondo io in veste di associazione poligonal in quanto quota parte gestiamo una cosa che si chiama informa giovani ma potrebbe essere utile anche per persone che non sono giovani e che cercano lavoro questa è una modalità per mettere per mettere le necessità e darne una risposta quindi a questo punto appunto ringrazierei te Anna e Franca per appunto questa diciamo questo spaccato di realtà che ci avete portato della Caritas che spesso insomma è nascosto poco conosciuto probabilmente anche per una scelta rispetto a quella che viene intesa come carità cristiana quindi vi ringraziamo tantissimo per perché siete stati presenti qui per insomma soprattutto per quello che fate quotidianamente e adesso io passerei la parola dopo aver ringraziato la Caritas a Claudio Caratelli Claudio Caratelli è intanto diciamo una persona importante perché pur venendo da sendo residente in un comune diverso da quello di Cori ma confinante cioè nel comune di Rocca Massima partecipa attivamente nelle attività del comitato civico insomma qualcuno comitato civico per la difesa dell'ospedale di Cori e nelle lotte che sono state fatte per la difesa del punto di primo intervento qualcuno si farà la domanda che c'entra il comitato civico con con appunto il discorso della solidarietà del banco farmaceutico e vabbè io senza che parlo io passerei la parola a Claudio per raccontarci la sua esperienza da cittadino di Cori extramedia così lo definirei per raccontarci così la sua esperienza come il comitato civico banco farmaceutico e tante altre cose che significa esercizio della cittadinanza attiva perché questo mondo lo lasciamo un po' migliore rispetto a quello che ci è stato dato Claudio a te la parola ok grazie buonasera a tutti allora io innanzitutto da tantissimo tempo mi definisco un cittadino del mondo nel senso che secondo me le barriere stanno solo dentro al cervello delle persone fuori non ci so barriere non ci so confini basta fare una passeggiata a montagna e rendese conto che attraversi due tre comuni non te ne accorgi quindi le barriere ce le abbiamo purtroppo nel cervello qualcuno cerca ancora di mettercele dentro a chi non ce l'ha ma non ce riusciranno mai e quindi la cosa fondamentale per la solidarietà secondo me è non avere barriere questo lo dico perché spero con la mia testimonianza di avvicinare quante più persone a questo gesto di solidarietà e a tutti i gesti di solidarietà io attraverso il banco farmaceutico questa estate ho avuto l'opportunità di mandare un piccolo quantitativo di medici finali in un villaggio del sud senegalese attraverso un ragazzo che tornava giù dopo quattro anni essendo riuscito a rinnovare il suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro infatti ha ottenuto un contratto in un'azienda proprio a Cori e io sono stato felicissimo di questo perché oltretutto è veramente una bravissima persona e se merita tutto il bene del mondo e quindi grazie al banco alimentare io ho potuto inviare banco farmaceutico guardate sì sembra una stupitaggine diciamo che sei contento perché hanno nato due aspirine in un posto no? sì perché purtroppo ci sono dei posti dove non c'è mai con l'aspirina anzi se ce l'avessero sarebbero sarebbero già ricchi non dobbiamo neppure andare tanto lontano perché le testimonianze della Caritas ce lo hanno confermato che purtroppo la povertà c'è anche da noi non facciamo finta di non vederla ma la povertà c'è sgomberare per esempio le persone che dormono all'addiaccio secondo me è la cosa più infame che può accadere ma per il semplice fatto che la colpa non è la loro la colpa è della società che non riesce a creare dei posti idonei dove queste persone possono stare perché perdere il posto di lavoro per esempio uscire uscire di galera per aver commesso qualche piccolo reato e non riuscire a trovare un posto di lavoro significa andare a dormire sotto i punti c'è poco da fare io sono a casa ferroviere ho girato tutte le stazioni ma li trovavo dentro i treni ma come si fa a buttare fuori una persona d'inverno con questo freddo fuori da un vagone certo puzza pazienza cioè quando scende apri i filestrini cerchi comunque di ovviare tra le persone che devono viaggiare in treno per lavoro e quello che ci accade dentro però voglio dire c'è sempre bisogno del po' d'umanità perché se non siamo umani non siamo manco besti siamo peggio questo è questo voglio dire è il mio contributo ecco perché io partecipo alle attività del comitato civico di Cori ma io ho fatto delle battaglie anche qui a Roccamassima quando mio figlio andava a scuola volevano chiudere la scuola insieme a un altro extra comunitario come me da Roccamassima perché veniva da Subbiago ci siamo impegnati noi abbiamo tra virgolette rubato i bambini a Giulianello all'epoca per metterli nella scuola di Boschetto Bianca Maria De Cave ogni volta che mi vede si addrizzano i capelli perché io smontavo dalla notte invece da casa andavo a Cori gli andavo a rompere le scatole per tornare al discorso di prima bisogna avere veramente il cuore duro per girare la testa dall'altra parte io non ci riesco è più forte del me allora Claudio ecco mi raccomando date una mano sempre non è facile ognuno di noi ha impegni io ho altre situazioni altre cose non è vero non è vero che chi si dà da fare nella società è perché non c'è niente da fare io ho tre miliardi di cose da fare e nel mio piccolo magari le faccio male però cerco cerco di farle insomma è importante è importante aiutare chi si dà da fare purtroppo e lì io ce lo devo mettere dentro Carantonella purtroppo c'è il discorso che se le istituzioni funzionassero come dovrebbero tutto questo impegno da parte di cittadini per aiutare altri cittadini forse non occorrerebbe ma la situazione è questa e quindi umanamente cerchiamo di eh le istituzioni non sono perfette anche nel migliore dei mondi purtroppo le istituzioni non sono perfette sì sì ma indubbiamente poi le istituzioni sono fatte sempre dagli uomini non è che vengono da Marte quindi quindi va bene così quindi va bene così siamo anche noi e allora eh Claudio non so se tu vuoi aggiungere qualche cosa di più specifico sulla tua esperienza come volontario nel nel banco farmaceutico nel ma guarda io tutti gli anni ha dato la propria disponibilità appunto ad essere presente in farmacia per eh per la raccolta del farmaco come come volontario che invitava gli altri cittadini alla donazione ma guardate io ho detto prima eh io non è che eh tu la presenti anche perché ce ne sono stati tantissimi di persone non è che sono una persona così così presente sempre no però se posso quando posso in una mano la do ecco Roberto Ceracchi sa che una volta ho partecipato anche al banco alimentare nel senso che con la protezione civile siamo andati eh a Pomezia nei magazzini a stoccare eh i viveri che avevamo raccolta prende quelli che ci servivano quindi eh io dico che se uno spreca una giornata all'anno per per una cosa positiva eh si sente meglio pure con se stesso va bene allora con queste parole date almeno tutti quanti i cittadini diamo almeno una giornata all'anno di disponibilità eh nei confronti degli altri e di queste iniziative come il banco farmaceutico come la Caritas come la protezione civile come tutte quante le realtà anche la stessa eh poligonal che offrono possibilità di fare volontariato il comitato eh civico di Cori per fare cittadinanza attiva e quindi chiedere la concretezza e l'effettività dei diritti alle istituzioni a proposito eh di istituzioni perfette ecco una giornata l'anno tutti quanti i cittadini probabilmente eh produrremmo una una quantità eh di opportunità per tutti quelli che hanno difficoltà se la passano male o hanno bisogno di una mano e allora ringraziando anche Claudio eh Caratelli e anche il nome per conto del comitato civico ma anche di questa sua presenza extra ehm extramenia ehm concluderei questa iniziativa Cori Comunità Solidale i tanti volti del volontariato ehm dicendo che ehm queste iniziative da parte di Poligonal eh proseguiranno perché eh appunto non abbiamo descritto tutti i volti del volontariato della eh comunità corese ci sono tante altre forme di cui non ci siamo eh oggi occupati oggi ci siamo occupati di quella particolare forma di volontariato che eh è rivolta eh ai più deboli ai più fragili e allora essendo appunto un'iniziativa dedicata eh a loro eh non possiamo che eh dedicare questi incontri eh a persone che sono più o meno recentemente scomparse e come in un commento Facebook che invito a tutti quanti eh invito tutti quanti a leggere fatto dal dottor Sandro Luciani sulla scomparsa eh di Don Ottaviano Maurizzi eh dedichiamo appunto il Cori Comunità Solidare alla memoria di Don Ottaviano Maurizzi eh del dottor Fernando Nobili che è scomparso recentemente e che eh nella sua eh attività di di farmacista non ha mai negato spazio per chi ehm ne avesse bisogno e la sua attività insomma rivolta nel volontariato era anche presente eh nell'ambito della dell'associazione dei trinitari presso dei trinitari laici presso la Madonna del Soccorso e ancora ci piace ricordare eh anche eh la eh dottoressa farmacista prima donna farmacista di Cori eh Rinalda o Arnalda eh Guadagnina ecco queste persone ehm rappresentavano e diciamo che rappresentano ancora eh per la nostra comunità ehm quei punti di riferimento eh in ogni occasione di disagio e di bisogno eh soprattutto nelle situazioni eh di malattia eh a loro dedichiamo appunto queste questi incontri che svolgeremo eh ripetutamente nel tempo come eh come Poligonal e nello specifico invece dell'iniziativa Banco Farmaceutico perché ripetiamo eh si eh le donazioni potranno essere effettuate eh dal 9 al 15 di febbraio in tutte le farmacie di Cori e eh di Giulianello per il Banco Farmaceutico ringraziamo il personale medico eh infermieristico dell'ospedale di comunità i medici di medicina generale di Cori eh il personale del dell'attuale PAT dell'ex punto di primo intervento e e anche l'amministrazione comunale la ASL e i servizi sociali anche se non abbiamo ancora istituzionalizzato un protocollo di intesa sulla gestione del Banco Farmaceutico soprattutto del recupero eh dello spreco farmaceutico noi questa attività eh l'abbiamo eh iniziata e eh la eh porteremo avanti e diciamo che simbolicamente proprio perché non c'è nulla di istituzionale queste realtà hanno già costituito quello che può essere un embrione di casa della salute a Cori dove operano eh diverse eh realtà sociali in termini associativi di tutela dei diritti eh dei malati e appunto eh le istituzioni sanitarie eh per ultimo eh dobbiamo ringraziare veramente di cuore eh eh le comunità di Cori e Giulianello eh per tutti quei cittadini che eh doneranno dei farmaci ma per ogni gesto di sostegno generosità e eh donazione di qualsiasi tipo eh che venga fatto laddove eh i nostri occhi eh incrocino eh situazioni eh di bisogno eh perché eh solamente una comunità eh in grado di accogliere eh anche le persone nella nella povertà e nel bisogno è una comunità degna e in grado di costruire un futuro migliore per tutti grazie eh a tutti voi per l'ascolto e per il fatto che siete stati così eh pazienti ehm nell'esserci dilungati in questa eh in questa carellata eh sulla solidarietà su cori comunità solidarie e a arrivederci a presto a tutti quanti con delle eh delle novità di cui presto vi parleremo un saluto a tutti voi e a tutti coloro che hanno partecipato grazie di cuore a tutti grazie